si si 20 aprile 20 aprile cannabis day ragazzi io la prima canna me la sono fatta a 14 anni dovevo compierne 14 mancavano 10 giorni al mio compimento dei 14 anni i primi due anni ho fumato quello che capitava per lo più settimanalmente e poi ho fumato tutti i giorni almeno una canna fino a un limite massimo di circa 15-20 a volte in alcuni periodi quindi ragazzi lo so benissimo che vi fate le canne che vi piace ma non capisco perché ogni cazzo di 20 aprile dobbiamo approfittare di sta cosa per fare i poser ho smesso da un annetto chissà se rinizierò chissà se ho smesso per sempre non lo so però non ho nulla contro i pori anzi dio li benedica però tutti fumano chi non fuma ha fumato quindi di conseguenza che senso c'ha sto poseraggio che io veramente non sopporto comunque comunque approfittiamo di questa opportunità per fare qualcosa di costruttivo allora per ripartire e ritornare da un grande classico un standardo di quegli anni per quello che mi riguarda per me ed è Living Young Wild and Free giovane, libero e selvaggio prima selvaggio poi libero la grande hit di Wiz Khalifa e Snoop Dogg due bandiere del fumo della cannabis due persone che non smetteranno mai praticamente tra l'altro l'ho appena visto su Instagram un post dedicato a Chirolla e non c'era la magica dedicata a Chirolla di Babaman che era il vizio i miei non sono progetti come l'ingegner cane voglio fare cane, faccio cane che ti fanno male tiro più su di una grumela, sbuffo fumo come un drago stando attento allo sceriffo che praticamente era questa dedicata a Chirolla ehi niente non c'era sono un po' intitolata un post, una playlist dedicata a Chirolla e non ce la metti comunque dedicata a Chirolla mi sa che l'ho fatta quindi di conseguenza non la faccio oggi se non l'ho fatta vi chiedo scusa la recupererò ma adesso arriviamo qui a young wild free e allora ci umbriachiamo e allora fumiamo dell'erba ci stiamo solo divertendo non ci importa che qualcuno ci guardi quindi usciamo e così che si deve fare giovani selvaggi e liberi so what we get drunk che spettacolo io adoro questo brano lo riascolto sempre volentieri perché è proprio un manifesto della giovinezza da due persone che comunque avevano già una certa età soprattutto Snoop Dogg Wiz Khalifa stava al top erano i tempi in cui aveva fatto uscire Black and Yellow Black and Yellow ma quella prima 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 poi dopo See You Again è andato un po' a calare però ai tempi Wiz Khalifa era il nuovo Lil Wayne era le king a livello internazionale proprio tanto che queste hit ancora fanno stream che non fa nessuno quindi figuriamoci ed è una canzone perfetta questa Bruno Mars al ritornello giusto ne mettiamo uno mettiamo un cantantino giusto capito per sopperire i limiti tra l'altro ho visto una versione in studio in cui stavano in una radio Snoop Dogg e Wiz Khalifa stavano a canticchia e mi piace ancora più dell'originale perché stanno là un po' fatti e se la fanno capito a bassa voce poi tra l'altro che razza di flow che usano cioè mi piace proprio il modo in cui Snoop ad esempio entra sulla traccia no mi fa impazzire proprio e niente fondamentalmente la traccia è un esercizio di stile che però cioè ti fa capire proprio la voglia il fatto che se sei giovane dentro sei giovane fuori sei giovane per sempre sono giovane per sempre dammi i miei jeans 501 jeans e strizza lì più grande della vita di King Kong sei un'altra classe se salto un giorno sarò fuori con te a fumare erba di prima classe questa è la come la cue de wits però penso che non ci sia inizio più bello di 17 again quindi no come 17 anni ancora spettacolo spettacolo mamma mia io cioè sto tornando dietro negli anni è come se avessi di nuovo 17 anni e avessi quei pochi peletti in faccia come barba sto riflettendo sul caso cerco di trovare un buon sapore oh mio dio mi stanno dando la caccia sta iniziando a diventare pesante pertinente vendiamola è ora di fuggire via il tempo continua a volare mettilo al sicuro paga subito sto colpendo come se me la stessi facendo addosso su di fronte quattro colpi bruschi come califa ha messo l'erba in una scatola e chiudo questo podcast dicendo l'altro giorno parlavo con un ragazzo in contatto per caso uno che conosco che anche lui per una vita ha fumato fuma ancora oggi comunque e mi disse a me l'erba mi ha aiutato tanto perché ero molto aggressivo questo è un ex pugile faceva proprio la professione poi purtroppo un incidente e parlavamo proprio di questo fatto del perché nel senso in che senso ti ha aiutato e perché comunque c'è tu magari sei uno che esce incazzato caccia dello sconto perché ce l'ha col mondo no e comunque sei uno che cioè ragazzi voi sapete cos'è la cattiveria la cattiveria intendo dire proprio come insegnano i fratelli maggiori degli zingari più piccoli tu quando aggredisci un ragazzo devi finirlo cioè non è che dici io ti do due cazzotti e sto fermo no io fino a che non hai perso i sensi ti devo massacrare di botte quindi se tu comunque hai una mentalità da rissa da strada tu sai benissimo che nel momento in cui parti non puoi fermarti questa è una lezione che ho imparato la mia prima rissa diciamo ufficiale ne avevo fatte di ragazzate erano piccoli però la prima vera rissa ha cazzotti violenti in faccia contro proprio un albanese tra l'altro io partì gli ed i due cazzotti in faccia riuscì anche a stenderlo questo si rialzò mi grocchiò di botte in faccia perché perché io mi fermai lì capì da lì non mi sono mai fermato quando ho litigato fortunatamente non capita da tempo a parte una piccola risetta con mio padre tanto piccola non è stata qualche mese fa però fu necessaria però a parte questo e di conseguenza cioè se tu comunque la cattiveria quando tu sei uno che poi inizia a farsi pori stai a casa ti fai il poro ti arriva il discorso la paranoia dentro e inizi a pensare ok ma io mo magari sono qui sono fragile cioè io non mi va di rischiare di prendere botte ok quindi anche la tua aggressività la calmi perché tu sei tu inizi a ragionare sul fatto che ha fatti concreti così come tu puoi crocchiare di botte uno può crocchiare uno di botte stessa senza pietà a farti male a spaccarti i denti a doverti fare operazioni roba di sto genere e allora questo qui mi diceva praticamente che lui era molto aggressivo era uno che voleva fare botte e cazzi vari quando iniziato a farsi le canne iniziato a farsi i ragionamenti e ha smesso proprio di essere aggressivo ok è una cazzata fondamentalmente però è la verità cioè fondamentalmente le canne possono aiutare molto in questo senso perché molte persone si sono calmate proprio quando hanno iniziato a fumare perché ti mette una condizione di pace e anche un po' di sana paranoia quindi niente ragazzi volevo raccontare questo piccolo aneddoto e niente comunque ragazzi io invece personalmente ho smesso ho smesso perché non ce la facevo più perché il mio corpo andava sempre conto ogni volta che fumavo era un problema perché comunque mi distoglieva tanto l'attenzione effettivamente da quando ho smesso ho avuto un sacco di cose positive nella mia vita proprio grazie alle cose che ho fatto che invece prima non avrei potuto fare perché ero sempre fatto comunque o comunque mi godevo la fattanza e sì mi perdevo in cose magari anche più importanti come magari un sogno però perdevo di vista l'obiettivo e quindi mentre prima sognavo e basta oggi costruisco il mio sogno non che prima di smettere non l'avessi fatto però c'è stato un momento nella mia vita in cui ho capito che dovevo andare per la mia stata e non mi potevo permettere di continuare a fumare poi ho anche dei problemi miei interiori proprio a livello psicologico e quindi non mi fa proprio bene fumare cioè mi fa perdere il senso dell'equilibrio vivo solo tra un estremo e l'altro invece quando non fumo più ho diciamo un senso dell'equilibrio che è necessario per me quindi vabbè vi ho raccontato la mia esperienza volevo approfittare comunque raga sempre giovani selvaggi e forti con senza canne alcol e roba varia l'importante è non scendere nella dipendenza non scendere nell'alcolismo ad esempio quindi bevi ok bevi però fanno tutti gli umbriachi finché non diventi alcolista fanno tutti i fumatori finché non ci diventi un tossico che se ti fumi 15 canne al giorno sei un tossico comunque lo dico sono stato una vita figuratevi ho provato ogni droga fondamentalmente certo le canne sono quelle che fanno meno male e chissà magari domani all'inizio però ragazzi se vi posso dare un consiglio non esagerate con nulla se avete bisogno di andare avanti a un certo punto dovete fermarvi fatelo tutto qua meglio non essere dipendenti da niente tutto qua comunque niente big up monologato podcast is there a un certo punto a un certo punto Grazie a tutti.